Un'unica grande azienda in grado di gestire servizi come quelli per i rifiuti, l'energia e l'acqua, che sia ecosostenibile e allo stesso tempo vantaggiosa per i cittadini. È l'obiettivo di Multi Utility Toscana, un progetto presentato e sottoscritto dai comuni di Firenze, Prato ed Empoli e sostenuto dalla regione toscana, pensato per avere un soggetto industriale forte con maggiore capacità di investimento e dunque di erogazione di servizi in favore delle città, ma capace anche di controllare e calmerare i prezzi delle bollezze. Si tratta di mettere in comune tutti i servizi pubblici locali per creare un'unica società, con dei vantaggi straordinari. Anzitutto per i cittadini, perché avremo a disposizione più risorse per gli investimenti. Si calcola un miliardo e mezzo di euro in più. Multi Utility Toscana mette al centro i principi e i valori dell'economia circolare e quindi dell'energia rinnovabile e per questo punta a un modello sostenibile e green. Il progetto è aperto alla partecipazione di tutti i comuni della Toscana e partirà ufficialmente nel 2022 con un'azienda a maggioranza pubblica gestita direttamente dai comuni, ma che verrà quotata in borsa per permettere ingresso di denaro privato e quindi facilitare investimenti su impiantistica e qualità del lavoro. Noi abbiamo l'ambizione di creare la quinta grande azienda multi servizi del Paese e questo è anche un messaggio di fiducia in un momento di crisi economica legata alla crisi del Covid per il nostro Paese. L'obiettivo è quello di mettere insieme tutti i servizi, quindi il perimetro è acqua, rifiuti, energia. Partiamo con l'area fiorentina, l'area empolese e l'area fratese. Ma siamo aperti a tutti, è un messaggio che diamo anche ai nostri colleghi sindaci. La Multi Utility è un vantaggio in dubbio per tutto il sistema toscano in termini di occupazione, di obiettivi. Pensiamo all'economia circolare, alla sostenibilità, i rifiuti, la raccolta differenziata. Pensiamo anche agli investimenti, come ho già detto all'inizio. E sono sicuro che da ora in poi partirà un percorso entusiasmante.